Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi, nuovo video con i miei giocatori in hype e in down della 34esima giornata, insomma un'analisi di questi giocatori per il Fanta Calcio. Prima di cominciare ti chiedo se ancora tu non l'avessi fatto iscriviti al mio canale se ami il Fanta e lascia un bel like a questo video. Oggi andremo ad analizzare un po' chi scende e chi sale al Fanta Calcio dopo la 34esima giornata. Vero è che mancano soltanto 4 giornate al termine per cui i giochi sono quasi tutti fatti, però se nel tuo Fanta ci sono ancora gli scambi aperti, qualcosina potresti andare ad ottenere con gli scambi. Allora partiamo subito con Torino-Spezia 2-1, qui c'ho un botto di appunti ragazzi, ti dico che Milinkovic-Savic tornato titolare può essere interessante, secondo me rimarrà titolare lui. Lukic tre gol, quattro assist in tutto, ieri ha fatto una doppietta, è un buon quarto slot di centrocampo, con le piccole potreste anche tenerlo come un terzo. Verde non gioca, non gioca, cioè non entra proprio. Kovalenko invece oggi è stato esterno in attacco, quindi l'istato centrocampista esterno in attacco molto interessante. Sanabria preferito a Pellegri, ricordiamoci a questa cosa, io ve la dicevo già prima della partita, perché Fantacalcio.it ti indicava Pellegri titolare, a me sembrava molto molto strana come cosa infatti così non è stata. Venezia-Atalanta 1-3, Murel un gol e un assist in questa partita, non so se vi ricordavate ma prima della partita contro il Sassuolo vi dicevo ragazzi, Murel è da puntare a fuoco negli scambi perché probabilmente da qui a fine anno farà tre gol, da quando l'ho detto io ha già fatto due gol e un assist, quindi io ve l'ho detto tre gol e un paio d'assist, ne ha già fatti due e un assist, per cui nelle prossime quattro partite il gol che manca dovrebbe andarlo a fare. Poi Pasalic, 10 gol e 6 assist, obiettivamente l'istato centrocampista ha un rendimento da attaccante di terza fascia, cioè è un top assoluto, l'anno prossimo ci ammazzeremo per comprarlo ne sono convinto, un po' come il Chiesa di quest'anno, forse un pochino meno perché comunque non è nella Juve, con la Juve ha un hype maggiore il tutto. Allora, Zapata, 10 gol e 4 assist, sotto tono mancano ancora 4 aggiornate, potrebbe ancora fare un gollettino forse 2, quindi è ancora comunque da tenere in nota. Zappa Costa, un gol 5 assist, l'anno prossimo da tenere assolutamente più in nota, perché quest'anno, soprattutto nella prima parte di stagione, è stato spesso in ballottaggio con Maele e a volte anche con l'altro giocatore di cui adesso mi sfugge il nome sulla fascia sinistra, anche quello, Pezzella, da tenere in nota per l'anno prossimo come scommessina, Maele probabilmente andrà via. Comunque, ad ogni modo, Zappa Costa, ricordiamoci, perché può giocare anche a destra, quindi gioca praticamente sempre. Allora, Inter-Roma 3-1, ragazzi. Dunfries, 5 gol e 4 assist, è un top, uno che in difesa ha questo ruolino, è un top. Lautaro, 16 gol, 3 assist, è comunque un top pagato un po' troppo, diciamo, è stato pagato come fosse un top di primissima fascia, diciamo che è a quella mezza via tra il top e il semi-top per il rendimento di quest'anno, mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, fosse stato ancora rigorista, sarebbe arrivato intorno ai 20 gol alla fine, se contate i gol fatti da Cialanoglu su rigore. Quindi, in quel caso, la quotazione da top di primissima fascia sarebbe valsa la pena. Prodovic ha un 6,5 di fantamedia, ok? Ha fatto gol, è sempre stato un giocatore abbastanza snobbato nelle aste di fantacalcio, uno di quelli non tenuto tanto in nota, invece ha sempre avuto un rendimento costante, ve lo dicevo anch'io quest'estate, e sta ripagando, sta ripagando molto molto bene per quello che tu l'hai pagato. Sicuramente è un giocatore che lo metti su quasi sempre, è un terzo slot praticamente fisso del tuo centrocampo. Maiten Niles non gioca dalla 26esima, o meglio, non prende voto dalla 26esima, quindi insomma, Spinazzola era in panca finalmente. Poi Gosens parte ancora dalla panca, io mi aspettavo un turnover, magari ci sarà nell'infrasettimanale contro Bologna, però è un campionato, qui non c'è stato. Mkhitaryan 5 gol e 6 assist, è sempre comunque un top, se vuoi non di primissima fascia, ma un top, nonostante tutte le critiche che ha avuto. Poi Verona-Sampdoria 1-1. Caputo, 5 gol nelle ultime 7 partite, 11 gol totali, ok che per il Fanta ieri è praticamente stato nullo, perché era sbagliato il rigore e poi ha bollato, però comunque è una bella cifra. Caprari, 11 gol anche lui, molto interessante, veramente molto molto interessante Caprari, ve lo consigliavo quest'estate ragazzi. Barak, non porta bonus alla 22esima, questo è il momento migliore per provare a prenderlo, perché adesso la gente non ci crede più in lui. Quindi tu potresti arrivare lì e averlo, magari ti fa, che ne so, un paio di gol nelle ultime 4 giornate, ricordiamoci che è il rigorista del Verona, e chi lo sa ragazzi che non sia quello che ti fa fare la svolta al Fanta nelle ultime giornate. Augiello, oggi titolare al posto di Murro, anche questa è una nuova chiave di lettura della formazione d'Oriana. Poi Salernitana-Fiorentina 2-1, Bonazzoli 8 gol. Obiettivamente alla fine è un quarto slot, è difficile da schierare perché non sai mai quando metterlo, però è quello che ti paga molte volte il fondo schiena quando sei lì io spesso, io ce l'ho a Bonazzoli, lo metto spesso come prima riserva, poi cosa fai? Faccio, metto il giocatore che magari non sono sicurissimo che giochi, che però secondo me potrebbe portare bonus a giocarsi, lo metto titolare, perché se quello non gioca mi entra a Bonazzoli, ho già fatto questo giochino diverse volte e lui ha bollato, quindi Bonazzoli interessante, l'anno prossimo se la Salernitana andasse in B sarebbe da vedere dove andrà, idem, Vertea sarebbe da vedere dove andrà perché è stato titolare a centrocampo per tutta la partita ed è anche uno che è abbastanza offensivo. Poi, che avrà il titolare stavolta? Io credo che dalla prossima sarà il titolare Pionte, vedremo, solo il campo ci dirà chi avrà ragione. Saponara, 3 gol, 3 assist ragazzi, è sempre, sempre in ballottaggio con Icone e Sottil, cioè l'unico sicuro dei tre là davanti di fatto è González, per cui tutti i buoni giocatori, ok, non sai mai bene quando schierarli, è un po' difficile giocare con i centrocampisti della Viola, ci sarebbe anche Caglion che nella prima parte di stagione giocava abbastanza. Bologno-Dienese 2-2, Ikei 5 gol, cioè un rendimento quasi da top, considerato che è un difensore che ha fatto 5 gol dalla difesa non è affatto affatto male, l'anno prossimo potrebbe anche incrementare questo moltino. Udoge, 3 gol, 1 assist, da gennaio di fatto ha avuto un rendimento da top, perché ha fatto tutto da gennaio, Molina, 6 gol, 1 assist, è un top, c'è poco da dire. Ikei c'è anche da dire che ha saltato alcune partite per infortuni o cose varie, quindi magari sarebbe potuto arrivare anche lui intorno ai 6 gol. Deoluffeo, 11 gol e 4 assist, obiettivamente è un terzo slot pieno, terzo slot pieno Deoluffeo, tranquillamente. Con le piccole lo puoi schierare anche come, diciamo, secondo slot, comunque è un terzo slot per il tuo attacco. Success, 2 gol, 6 assist, 3 assist nelle ultime 4 giornate, sinceramente io proverei a darlo via adesso, se ce l'avessi, perché potresti monetizzarlo abbastanza bene, visto l'ottimo rendimento attuale, e non credo che continui così. Svanberg, assist, non portava bonus dalla sedicesima giornata, ragazzi, c'è tanta gente, non c'è più creduto in lui, l'ha dato via, ci poteva anche stare, effettivamente. Empoli-Napoli, 3-2, questo è il risultato che più mi ha sorpreso. Allora, Pinamonti, 12 gol. Cioè, io ti dico, lo considero un terzo slot e non un secondo, ma potrebbe anche essere un secondo solo perché magari contro le big avrei fatica, farei fatica a schierarlo, avrei dubbi sullo schierarlo o meno, però questi dubbi mi ha fugati ieri perché era contro la seconda difesa italiana, per cui diciamo che può essere un secondo slot pieno, c'è uno che fa quei gol lì nell'Empoli, chissà l'anno prossimo, io spero sinceramente che resti ancora all'Empoli e che l'Empoli sia in A, cosa potrebbe darci? Insigne, 10 gol, quasi tutti su rigore. Ora, a me dispiace tantissimo che vada via, è un giocatore siccome molto forte, ho però un dubbio, andrà via perché si sa. Chi sarà il rigorista l'anno prossimo? Perché obiettivamente se 9 gol in signa e li ha fatti su rigore, chi si prenderà questo bottino di 9 gol l'anno prossimo? Sarà Ozyman? Sarà Politano? Ruiz? No, non lo so, adesso sto sparando nomi a caso, vedremo, può essere interessante, può essere anche un Elmas che prenderà il suo posto. Mertens, usato col contagoccia, già 9 gol, interessantissimo, cioè avesse giocato di più, ragazzi. Meret, Meret, allora, è andato male, malissimo, è andato malissimo ieri, andrà via, a sembra, io sarei curioso di vedere dove andrà, perché comunque per me è un portiere valido, quindi se la prossima stagione giocassi un'altra squadra di Serie A, come acquisto low cost potrebbe essere interessante da provare, magari una scommessina. Zanoli ha giocato meglio di Malquit, anche sto qua teniamocelo in nota per l'anno prossimo. Poi, Genoa Cagliari 1-0, Badel ha fatto un gol obiettivamente 5,8 di fanta media, io se riuscissi a darlo via per qualcuno che avesse una media un pochino superiore, sempre a titolare, lo farei al volo, magari col fatto che Inaip per il gol vittorio a Destro, non segna dalla venticiquesima giornata, secondo me è il momento buono per prenderlo, perché magari da qui a fine stagione un paio di goletteni te li potrebbe fare, quindi Destro sarebbe un buon nome. Efty oggi non ha giocato, potrebbe essere anche questo, ha scommesso allo costo negli scambio, ancora da prendere, per Eiro dovrebbe giocare di più, ragazzi. Io obiettivamente, semmai che io sia il solo che mi accorgo del fatto che l'offensività del Cagliari, una squadra che sta rischiando fortemente la B con l'avanzata da Salernitana, giochi molto meglio davanti quando c'è Pereiro, e perché Pereiro non gioca? Questo non lo capisco, non lo capisco, Pavoletti, bell'attaccante, ok, ma rallenta molto il gioco rispetto al buon Pereiro. Lazio-Milan 1-2, ragazzi. Allora, immobile, top, vabbè, non ne sto neanche a parlare. Giroud, 9 gol. Va detto che l'anno prossimo ci sarà un anno in più sulle sue spalle, bisogna vedere, però 9 gol, vi dirò, mi aspettavo addirittura meno da lui, con tutto che però ha giocato molto anche più di quanto mi aspettassi, 9 gol, bottino, non male, potrebbe essere meglio comunque non male, ad ogni modo ve lo dico, l'anno prossimo non lo punterai, se ce l'avessi adesso forse, forse penserei di darlo via, bisogna vedere il calendario del Milan. Tonali, 3 gol, 2 assist, 8 gialli, 6,58 di media, obiettivamente, prende trappi gialli, però è il suo gioco, perché lui è abbastanza difensivo, non fosse al Milan, avrebbe una media voto più bassa, ma non perché il Milan, perché il Milan invece è in alto, in classifica, per cui è per questo che ha comunque una media voto alta, perché vince spesso, in un'altra squadra con questo rendimento avrebbe una media voto abbastanza più bassa, sul 6-3, 6-4, diciamo. Ad ogni modo Tonali, uomo utile, si può pensare di darlo via, ma solo per un centocampista più offensivo che prenda meno cartellini. Leao, 9 gol, 5 assist, obiettivamente è sempre comunque un terzo slot, un terzo slot, a volte magari quarto contro le big, con le migliori difese, però è molto interessante, l'anno prossimo ci fosse uno a punta, più continua davanti, perché sia Giroud che Iber, soprattutto, non sono stati continui, Giroud un medio di Iber, diciamo che potrebbe rendere molto di più nel termine di assist, ma anche di gol, perché sei un uomo che ti apre gli spazi davanti, quindi bisogna vedere chi arriverà l'anno prossimo al Milan in attacco, siccome ci sarà un acquisto. Magozic torna a partire dalla panca, questa è una notizia nuova, diciamo, perché ultimamente era stato molto titolare, Magozic invece torna a partire dalla panca. Poi ragazzi, Sassuolo, Juve, 1 a 2, Berardi, 14 gol, 11 assist, è un top assoluto, è un top, uno con questo rendimento, con quel botto di assist, è un top. Raspadori ha fatto 10 gol, 3 assist, bisogna vedere l'anno prossimo chi andrà via tra Raspadori e Scamacca, secondo me andrà via Scamacca e in questo caso Raspadori giocherebbe punta, potrebbe fare più gol, obiettivamente, lui sta segnando così, giocando dietro. Dybala, 9 gol, 5 assist, chissà dove andrà l'anno prossimo, è un po' un dispiacere se dovesse andare via la sera, sinceramente, io non tifo per nessuna di queste squadre, preferrei che andasse all'Inter piuttosto che lasciasse totalmente l'A, perché mi piacerebbe provarci al Fanta. Alexandro, titolare e non Pellegrini, oltretutto ha fatto anche un assist, ultimamente giocava spesso Pellegrini, stavolta ha giocato Alexandro, non lo so, io l'anno prossimo mi aspetto di vedere Pellegrini titolare, però boh. Invece Bernadeschi, titolare quasi intera partita, visti gli infortuni vari, io mi aspetto che nelle ultime quattro ne giochi spesso di partita titolare, quindi boh, è da tenere in nota per questo rush finale Bernadeschi. Poi Jurecic gioca 11 minuti, chi lo sa, credo che quasi tutti l'abbiano mollato, però chi lo sa che adesso non torni, poi Ken, 5 gol, 1 assist obiettivamente, ha giocato veramente molto poco, avesse giocato un po' di più, magari, chi lo sa, chi lo sa. Niente, ti chiedo di lasciarmi un commento qui sotto, dimmi che ne pensi di tutti questi miei ragionamenti sul Fanta Calcio per la 34esima giornata, se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia un like, iscriviti al canale e per piacere cercami anche sui altri social, Instagram, TikTok, FantaGol, trattino basso, Fanta Calcio. Ci sono dei video brevi che escono prima lì e comunque sì, vorrei crescere anche su quei social, quindi per favore seguimi. Ciao e buon Fanta, ci vediamo domani con i consigli e la live di giornata, mercoledì sera, live, forse iniziamo prima, forse verso le 8 e mezza, vediamo. Ciao, buon Fanta!